buongiorno a tutti noi si è capito che rimaniamo a casa e quindi prepariamo le tagliatelle dai andiamo due ingredienti molto semplici si parla di farina e di uova proveremo un esperimento senza precedenti tirare la sfoglia con una pagaia nuova di pacca per ogni uovo vanno 100 grammi di farina noi ne abbiamo 300 quindi useremo tre uova si rompono le uova e piano piano si aggiunge la farina ovviamente dopo un po straborderà poi si andrà a impastare e partiamo dal centro e andiamo verso l'esterno la peggio sfoglia che abbia mai visto questa misura è la dodicimillesima parte dell'altezza della torre degli asinelli di bologna ora le tagliatelle vanno prese e sono colate socio bisogna fare anche il ragù adesso per gli scarsa fatiche si può usare questo repertorio di ingegneria meccanica del 1960 è una macchinetta per tirare la pasta da però un po più di soddisfazione tirarla con la pagaia sicuramente ci tenevamo a sottolineare che quando prepariamo le tagliatelle si ascoltano un paio di artisti bolognese di nicchia per cui Beppe Maniglia e Mingardi beh ma non vuoi neanche nominare il tagliatelle di nona pina che piace così tanto ai cinni ma ti riferisci a quell'album del 46 dello zucchino ma io non so che riesco è dell'album Grazie a tutti